ciao a tutti e ben ritrovati di nuovo su macraris sono aristide lappa innanzitutto grazie ai nostri consueti ascoltatori e anche a te che ci ascolti per la prima volta ci fa molto piacere in questo video power automate vediamo un esempio di flusso pianificato ovvero un flusso che viene eseguito seguendo un calendario ad esempio ogni giorno a un determinato orario immaginiamo di avere una cartella generica all'interno della quale abbiamo diverse tipologie di documenti la denominazione come puoi vedere qui abbiamo un underscore e la tipologia di documento il nostro obiettivo è di estrarre ogni tipologia e collocarla all'interno di una cartella ad esempio come questa dove in corrispondenza di ogni tipologia abbiamo una cartella di riferimento utilizzeremo le funzioni di stringa per fare questo tipo di esercizio prima di iniziare un piccolo spot su chi siamo a macraris nutriamo passione per il digitale e in questo spazio abbiamo piacere di condividere alcune delle nostre esperienze per contribuire a renderti agile in questa era high tech qui nel mio whiteboard ho un esempio di denominazione la prima cosa che faremo tra le varie azioni in power automate sarà di individuare questo underscore una volta che avremo individuato questo underscore aggiungeremo uno così ci ritroveremo esattamente alla b e con la funzione substring andremo ad estrarre solo questa parte sarà dinamica perché oltre alla funzione substring applicheremo anche la funzione lento lunghezza per avere la dimensione la lunghezza di questo elemento e qualora dovesse cambiare qui sarà dinamico perché ci basiamo sulla posizione di questo andiamo quindi in power automate qui ho inserito come trigger un flusso manuale perché è meglio utilizzare il flusso manuale per fare anche i test poi quando avremo terminato potremo eliminare questo e passare al flusso pianificato la seconda azione che andiamo qui ad inserire nuovo passaggio è one drive che ci permetterà con l'azione elenca file nella cartella di avere tutti i file nella cartella in una matrice navighiamo all'interno della cartella una volta che abbiamo recuperato questo facciamo un primo test così possiamo prendere gli elementi che utilizzeremo con la nostra azione analizza json qui abbiamo come output l'elenco dei nostri file in oggetto json abbiamo bisogno solo dei primi tre attributi perciò mi posiziono qui vado a copiare fin qui vado di nuovo in modifica ora nuovo passaggio inseriamo qui json incorporato e abbiamo qui analizza json il contenuto andiamo qui in valore dinamico inseriamo qui value scegliamo value inseriamo il nostro payload lo schema del nostro json togliamo questa virgola inseriamo parentesi grafa per chiudere e qui questo per chiudere il nostro array fine abbiamo il nostro payload ora la cosa che dobbiamo fare è di inserire l'azione per individuare la posizione dell' underscore andiamo quindi in corrispondenza di nuovo passaggio possiamo utilizzare le espressioni ma visto che in questo caso abbiamo un'azione incorporato andiamo ad utilizzare le funzioni di azioni incorporate stringa incorporato abbiamo qui funzioni di testo e qui abbiamo trova posizione del testo selezioniamo trova posizione il testo che noi inseriamo qui deriva da l'elemento che abbiamo dall'analizza json andiamo a scegliere dal valore dinamico e qui abbiamo name no extension nome senza estensione sarebbe nome del file senza estensione scegliamo questo automaticamente viene incluso in applica ad ogni un loop perché gli elementi che abbiamo qui sono degli array abbiamo più elementi all'interno quindi immagina che dovrà fare un loop ed è indovinato correttamente trova posizione testo qui abbiamo quindi no name no extension cosa deve trovare deve trovare l' underscore perfetto una volta che ha trovato l' underscore dobbiamo andare ad individuare ad estrarre la parte che identificherà la tipologia del documento sulla cui base poi andremo a collocare il documento andiamo quindi in corrispondenza del flusso sempre qui all'interno del loop andiamo ad inserire aggiungi un'azione questa volta inseriamo ancora stringa funzione di testo a questo punto scegliamo sottostringa perché vogliamo estrarre un elemento all'interno di una stringa il testo qui che dobbiamo dare è sempre il nostro nome senza estensione quindi abbiamo qui nome senza estensione la posizione iniziale qual è? noi abbiamo attraverso trova posizione trovato che la posizione è questa ma siccome dobbiamo estrarre a partire di una posizione in più a questa posizione trovata dobbiamo aggiungere uno andiamo quindi qui nel nostro flusso e per aggiungere questo uno cosa possiamo fare? possiamo inserire qui un componi oppure in corrispondenza di questa posizione iniziale possiamo inserire qui direttamente un'espressione scegliamo di inserire qui direttamente un'espressione andiamo quindi qui su funzione e qui in corrispondenza dello spazio inseriamo add tabulazione e qui abbiamo gli elementi da inserire qui da inserire abbiamo la posizione del testo virgola 1 vuol dire che estrarà posizione iniziale esattamente come abbiamo visto qui ora la lunghezza quindi il numero di caratteri che dovrà estrarre a che cosa sarà uguale? sarà uguale a tutta questa lunghezza meno questo facendo in questo modo avremo esattamente questo elemento andiamo quindi nel nostro flusso qui in corrispondenza di questo inseriamo un'espressione qui abbiamo sub per fare la sottrazione e all'interno di questo avremo un'altra funzione che sarà length length di che cosa? apriamo chiudiamo length del name quindi abbiamo andiamo qui e dobbiamo selezionare qui all'interno mi posiziono qui dobbiamo prendere name no extension quindi vogliamo avere la lunghezza di questo meno la posizione iniziale mi posiziono qui al di fuori di length virgola e qui dobbiamo inserire la posizione iniziale da qui partire che è quella che dobbiamo estrarre per avere quella visto che non è presente qui all'interno esco un attimino vado a prendere questa altra funzione dove avevamo la posizione iniziale quindi la prendo tutto quanto copio vado di nuovo in questa formula espressione mi posiziono qui e inserisco questo clicco fuori ora che abbiamo questo sempre all'interno del loop aggiungi un'azione ora recuperiamo un'azione OneDrive sposta file sposta o rinomina file clicchiamo su questa identificatore del file andiamo qui contenuto dinamico abbiamo name no name id e come id inseriamo qui l'id del file percorso di destinazione andiamo ad inserire qui il percorso l'inizio del percorso è questo quindi andiamo a prendere copiamo semplicemente questo l'andiamo a mettere qui sotto non è questo è ad est come possiamo osservare da qui è ad est quindi clicco intanto ad est inseriamo qui ad est slash sotto stringa che abbiamo estratto qui che è l'elemento della tipologia della cartella quindi qui abbiamo questa che è quello che abbiamo estratto andiamo quindi qui contenuto dinamico e qui abbiamo sotto stringa sotto stringa inseriamo questa una volta che abbiamo inserito questa andiamo a mettere un altro slash e a questo punto possiamo inserire il nome del file il nome del file recuperiamo semplicemente il nome da analizza json sovrascrivi possiamo qui scegliere sì salviamo e ora dovremmo aver terminato facciamo un test manualmente esegui il flusso cooperazione completata ok andiamo ora a controllare la nostra cartella qui in destinazione vediamo bolla abbiamo qui il file quando ritorniamo qui fattura abbiamo qui il file se andiamo qui in corrispondenza di a test a source qui non abbiamo più niente ora che sappiamo che funziona possiamo andare ad implementare la pianificazione con il trigger così possiamo andare a riprendere questo e rimettere nella posizione originaria trascino qui la metto qui in a test vado in a test fattura la trascino la metto qui in a test ok e qui la selezione tutte e due e la trascino e la metto qui in a source così è come all'inizio ritorniamo qui modifica andiamo in corrispondenza di attiva flusso manualmente possiamo togliere questo quindi elimina ok e ora possiamo inserire la nostra ricorrenza inseriamo qui ricorrenza abbiamo qui pianifica ricorrenza qui come trigger clicchiamo su ricorrenza intervallo abbiamo quelle diverse frequenze minuto secondo possiamo andare a scegliere qui giorno e qui andiamo in mostra le opzioni avanzate possiamo scegliere qui il nostro fuso orario abbiamo ad esempio questa l'orario di inizio è l'orario di attivazione del flusso seguiamo questo esempio a queste ore possiamo scegliere anche diverse ore a questi minuti inserisco ad esempio 23 vado a salvare e tra qualche minuto il flusso verrà eseguito ti ringrazio per l'attenzione tre piccole azioni per sostenere macraris e per noi di grande valore metti un mi piace registrati al canale e attiva il campanellino per essere avvisato quando postiamo nuovi video grazie